Qui a Ostuni, tutto il paese sta dando la caccia ai 5 miliardari, ma di loro si sono perse tutte le tracce. Attenzione però, perché questa è l'abitazione della madre del professor Giuseppe De Nace. Vediamo se si sente di fare una dichiarazione al nostro telegiornale. Signora, ci dice qualche cosa? Vediamo un attimo se... Aia! Oddio, ma che pazza questo? Attento! Attento alla macchina! Guardatele! Dove vai tu? Ma chi è sto vero? Che ha detto? Ma guarda che roba, signora, ma è pazza la tele... Ma tra tanti dico, perché proprio a me, brutti stronzi, dove mi avete portato? Io gioco con voi perché chiaramente non si vince. E invece vinciamo! Ma che si fa così? Mi dovete avvisare! Guarda che possiamo vincere! Non gioco! Io ho fatto tanto per non fare un cazzo nella vita! Evitare! Io evito! Ti piace di fare una cosa? Non la fare! E invece arrivano questi quattro stronzi! E succede il casino! Ma vi piace tanto di vivere a voi? Vi piace? Fatelo! Guarda quello là, guarda! Era felice! Gli ha dato il petardo di male a quell'altro! Era felice pure lui! Pum! Gli sposavano! Tu ti volevi sposare? Hai avuto la moglie? Le corna te le devi tenere! Te le devi tenere! Di quell'altro stronzo non le parliamo nemmeno! Non le parliamo nemmeno! Con la forbicina, con la coccoina, l'album di nonzianti! Ma tu c'hai una moglie malata! C'hai due figlie! Non c'hai gli occhi per piangere! Coglione! Quella volta dell'84 a febbraio in Lumezzane, e batte il lasco! Che cazzo dici? Oh! Dove altro ha fatto danni in unziante? Che? Cretino! Agneta, l'allenatore! Sua figlia dove vive? A Venezia! E dammi le chiavi! Oh! Cornuto! Chi è? Muoviti, si va a Venezia! E dammi le chiavi!